Benvenuti al nostro TG Sport. Per il calcio di Serie D, lotta serrata per la vittoria del campionato. A cinque giornate dal termine comanda sempre il Campobasso che ha quattro punti di vantaggio sull'Aquila e cinque sulla San Benedettese. Il Termoli vede l'obiettivo salvezza a portata di mano. Respira il Vasto Girardi, situazione delicata per l'FC Matese. Ripresa degli allenamenti per il Campobasso. Doppia seduta per la squadra in preparazione del prossimo turno. Domenica allo stadio Tonino Molinari contro il Riccione. Qualche giorno di stop è servito per ricaricare le energie in vista della chiusura del campionato. Da domenica a 7 aprile fino al 5 maggio si giocheranno le restanti cinque gare. Vincere contro il Riccione è l'imperativo in casa Rossoblu. Non ci sono altre possibilità in questa fase del torneo. I tre pareggi consecutivi hanno leggermente accorciato la classifica. Anche in questo caso va guardato il bicchiere mezzo pieno. Vero che il margine odierno sulle dirette inseguitrici, l'Aquila più 4, San Benedettese più 5, poteva essere più ampio. Altrettanto vero che dopo tre gare senza vincere il vantaggio attuale è un fortino da difendere con i denti. Inoltre domenica nel capoluogo abruzzese si gioca la gara tra l'Aquila e la San Benedettese. Un appello finale per entrambe costrette alla vittoria per ambire la Lega Pro. Un motivo in più per concentrarsi sul Riccione che oggi rappresenta anche una rinascita morale, si spera, da parte della squadra. La pressione è stata accusata, inutile negarlo, condita da un calo fisico assolutamente legittimo di qualche elemento chiave. Una condizione che può verificarsi in particolare dopo due mesi giocati alla grande, gennaio e febbraio, un calo fisiologico che adesso va archiviato per arrivare all'obiettivo Serie C. Inutile parlare di uomini e di schemi, adesso serve sangue freddo per tornare alla vittoria e mantenere il margine di sicurezza. La tifoseria rosso-blu è chiamata ancora di più in massa a sostenere la squadra nella gara di domenica. Serve vicinanza massima ai giocatori e alla società nella fase più delicata dell'intera stagione. A lavoro anche le altre molisane. Il Termoli prepara la seconda trasferta consecutiva, questa volta ad Angelini di Chieti. I teatini e i giallorossi, i numeri alla mano, sono le squadre più in forma del campionato insieme all'Aquila. Una sfida interessante. Il Chieti non vuole fermarsi. Dopo aver certificato la salvezza, mister Ruiso vuole un piazzamento play-off. Il Termoli ha un vantaggio di tre punti sulla zona play-out. L'obiettivo è vicino, ma servono almeno cinque punti per arrivare alla fatidica quota 40. Un punteggio che dovrebbe garantire la salvezza diretta. Il Vasso Girardi, dopo il successo vitale maturato contro il Matese, riprende le sedute in vista della trasferta di Ascoli. Nonostante i tre punti portati in dote da Iacullo, la situazione resta complessa per il giallo-blu. La retrocessione diretta non è scongiurata e l'obiettivo minimo è quello di garantirsi un posto nei play-out. Per la squadra di Marmorini nel sul calcolo bisogna ottenere il massimo da ogni gara, anche contro un Ascoli che ha il match point salvezza domenica per chiudere definitivamente i giochi. Chiusura sull'Avezzano. Questa mattina il tecnico Giuseppe Ferazzoli ha presentato le dimissioni. La società marsicana ha accettato la decisione dell'ex mister, una scelta dovuta alla mancanza di risposte concrete della squadra nell'ultimo periodo. In particolare nel derby perso contro l'Aquila, un match che ha sollevato più di qualche polemica nell'ambiente avezzanese. Il Fossombrone si è confermato squadra difficile da superare. I marchigiani hanno imposto il pari al campo basso, anche se naturalmente la squadra rosso-bluce ha messo del suo con il calcio di rigore sbagliato. Proprio all'ultimo respiro, ai nostri microfoni, proprio il tecnico marchigiano. Fusili, a cui chiedo un commento su questo 1-1 contro il campo basso. Beh, un commento si può valutare in tante maniere. Chiaramente per come è venuto nel finale usciamo contenti, perché insomma subire un rigore a tempo scaduto e soprattutto subire un gol a tre minuti dalla fine poteva così rovinare quella che penso sia stata dal nostro punto di vista un'ottima prestazione dove abbiamo dato non il massimo, abbiamo dato di più. Perché poi ognuno, chiaramente chi vede la partita fa le sue valutazioni, noi che sappiamo bene com'è la situazione, i ragazzi veramente oggi hanno dato l'animo. La differenza è stata che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo tempo non abbiamo avuto più la forza per poterla fare, ma perché? Perché oltre alle assenze che chiaramente regalare dei giocatori importanti come ci stanno mancando in questo momento, ma soprattutto non mi attacco a quello, ma mi attacco al fatto che c'erano 7-8 giocatori che non dovevano, ripeto, neanche giocare. Cioè Urso non doveva giocare, Camilloni non doveva giocare, Bianchi non doveva giocare. Sono ragazzi che invece hanno stretti i denti, Lorenzoni non doveva giocare, invece hanno dovuto giocare. Fraternali ha fatto un allenamento. Ci è mancata alla fine la forza di ripartire, ma al di là dei meriti dell'avversario, chiaramente è una squadra fortissima. Probabilmente avrebbe firmato la vigilia per un pareggio, probabilmente. Alla luce invece del fatto che il pareggio è arrivato al 92esimo e rammaricato? Beh, alla luce di quello sicuramente sì, però non sono ipocrita nel dire che con un rigore dove... Ecco, l'unico rammarico è aver concesso quel rigore che, ripeto, non so giudicare, era lontano, però è nato da una situazione dove probabilmente potevamo fare meglio. Però al di là di quello, il dispiacere è solo che ci siamo trovati a giocare questa partita con troppi giocatori non in condizione di poter giocare. Eppure l'hanno fatto, quindi va dato merito a questi ragazzi. È un punto importantissimo e alla luce del primo tempo che abbiamo fatto, insomma, ci deve dare ancora più forza. Chiaramente il Campobasso ha fatto i cambi per poterla cambiare. Noi li abbiamo fatti, ma chi è entrato non stava bene. Quindi ha dato al massimo di quello che poteva dare, però potevamo da questo punto di vista tenere meglio. Blitz esterno del Termoli che a Riccione ha compiuto un passo importante verso l'obiettivo stagionale. Ne abbiamo parlato con l'allenatore Giallorosso. Mister Massimo Carnevale è stata un'autentica battaglia dall'inizio. Alla fine l'ha vinta il Termoli con quel gran gol di scoppa. Non avete mai mollato. Si è rischiato anche a fine primo tempo il raddoppio con Hernandez. E poi, insomma, avete filato dritto fino alla fine, stringendo i denti e venendone fuori in tutti i modi. Sì, hai detto bene. Come dicevo anche al collega, era una partita molto temuta alla vigilia, perché comunque avevamo scavalcato Riccione la settimana scorsa. Sapevamo di trovare una squadra attrezzatissima che voleva fare la partita della vita. Cioè, partita che ha fatto. Però di fronte aveva un Termoli, credo, che è venuto con l'idea e con la mentalità giusta di fare il risultato qui a Riccione. Credo che dopo il gol, come hai detto, ci poteva stare il secondo gol a fine primo tempo. Però credo che per quello visto in campo, credo che il risultato sia più che giusto. Ecco, una partita che vi consente di tirare un po' il fiato. Avete a questo punto sette squadre. Sotto di voi ci sarà ancora da tenere duro? Ci sono partite ancora difficili da affrontare? Ma insomma, camerate tre punti importantissimi. Sì, cameriamo tre punti importanti, ma era importante dare continuità e all'importanza della partita di domenica scorso vinta col Nataresco. Però per chi mi conosce, sa, come dicevo ai tuoi colleghi, non è finita niente. Non è finita. Perché ne veniamo da una sofferenza almeno di due mesi. Poi i ragazzi che stanno anche l'anno scorso a sofferenza da un bel po' insieme alla città, insieme alla tifoseria, credo che comunque adesso bisogna stare sempre sul pezzo. che ancora non è finito niente e ancora non abbiamo raggiunto niente. Poi si va a Chieti, anche il Chieti ha recuperato un po' rispetto alle ultime domeniche. Che partita prevedi? Sicuramente il Chieti la conosciamo tutte, la corazzata. Anche lei è partita per vincere questo campionato perché è una squadra di tutto rispetto. Però ti ripeto, noi siamo una squadra umile, una squadra che lavora giorno per giorno. Sono una squadra che vuole andare su tutti i campi a farsi rispettare, ad ottenere il massimo dei punti in palio. Poi a volte ci puoi riuscire, a volte meno. Bocce sarà un mese di aprile intenso per il mondo boccistico della nostra regione. Si parte domenica 14 con il terzo trofeo Gennaro Rainone, gara individuale nazionale, organizzata dal DLF Isemia. Sette giorni dopo si tornerà in campo per il trofeo Primavera Avis, gara individuale regionale, riservata alle categorie Under 15, Under 12, mentre il 25 aprile si svolgerà il trofeo Paolo e Maurizio Bobbo, individuale regionale, firmato dalla società Madonna delle Grazie di Termoli. Affermazione di vitale importanza per il vasto Girardi, che ha battuto il Matese ed agganciato il terzo e ultimo posto in classifica. Vincenzo Lisi per il vasto Girardi, una vittoria di liberazione, sicuramente molto sofferta, ma si sapeva già dalla vigilia contro l'FC Matese, non potevate sbagliare, un buon approccio, una gestione più che altro nel primo tempo, visto che avevate il vento a sfavore, ma d'altro canto nella ripresa avete approfittato e sfruttato a dovere le occasioni. Sì, era una partita difficile, lo sapevamo, ma nel primo tempo siamo stati bravi a gestirla, secondo me, e tenendo il pareggio, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato il vento a favore e l'abbiamo portata alla nostra porta. Sì, un secondo tempo, un approccio sicuramente formidabile, questo frutto anche della buona condizione fisica, forse l'unico noto poteva albergare intorno al fatto che con il passare dei minuti, in caso di mancato gol, ci poteva stare forse un po' di nervosismo, di poca lucidità nelle giocate. Sì, è normale, poi col passare dei minuti diventa un po' più difficile, il tempo stringe, quindi ci tiene sempre di più a portare giusto da casa, però insomma siamo stati bravi, penso a gestire comunque la partita e a mantenere il risultato, che era poi la cosa fondamentale, a portare a casa i tre punti. Sì, anche perché avete provato a chiuderla, ma non ci siete riusciti, l'ultimo quarto d'ora si stavano un po' complicando le cose, avete concesso un paio di occasioni e poi l'espulsione sicuramente evitabile di Gargiulo. Sì, quello purtroppo, diciamo che è un po' fisiologico, in ultimi minuti quando si è in vantaggio concedere magari qualcosina, però la prima parte del secondo tempo è stata, penso, giocata bene, abbiamo fatto subito il primo gol, abbiamo provato a fare il secondo, e poi è normale, ripeto, che col passare dei minuti magari ti abbassi un po', perché insomma è sempre più importante portare a casa il risultato, però va bene così. Sì, una squadra sicuramente molto equilibrata, abbiamo visto delle sostituzioni solo nel finale, siete riusciti a dare continuità comunque alla buona prova di Campobasso, dove c'è stata comunque una buona prestazione a livello difensivo, non vi si poteva sicuramente chiedere di più. Sì, è da tanto che comunque facciamo buone prestazioni, penso che sia forse da un paio di mesi, poi è normale che ogni tanto i risultati arrivano, ogni tanto no, però il cammino è quello giusto, siamo arrivati a buon punto, la vittoria è importantissima, e spero che insomma in queste ultime partite saranno tutte delle finali, riusciremo a portare a casa più punti possibili e cercare di raggiungere i play-out per poi raggiungere questa salvezza che vogliamo tantissimo. Parliamo adesso di volle di Serie B in un palaunimo straripante di gente, l'Energy Time ha conquistato la Coppa Italia battendo in finale 3-1 il Castelfranco di sotto. A Campobasso presenti anche il consigliere federale Felice Vecchione, noi lo abbiamo avvicinato. Felice Vecchione, un'altra occasione per tornare in Molise, questa volta per la Final Four di Coppa Italia di Serie B, aggiudicata dalla Spike. Bella manifestazione, sull'organizzazione non teniamo nulla da dire perché ormai è consolidata, quindi chiaramente un grazie a Campobasso, in generale senza fare nome per evitare di dimenticarne qualcuno. L'occasione è stata importante anche perché avete avuto l'occasione di vedere queste due giorni 12 bellissime squadre, altre tante gare e poi la ciliegina sulla torta per voi è stata quella che è la società locale che è anche riuscita ad alzare la Coppa Maschina di Serie B. Sport ma anche turismo, sei un connubio? Assolutamente sì, anche perché, come ho avuto modo già di dire in occasione della manifestazione, della presentazione appunto di questa Coppa Italia, a Campobasso ieri c'è stata una delle processioni più importanti del nostro territorio nazionale, infatti sono sei secoli che va avanti questa processione, una processione bellissima, non ho avuto tempo per poterla vedere, però sicuramente avrà lietato i turisti che si sono avvicinati a questo territorio. In una o due giorni il pubblico delle grandi occasioni, un modo questo anche per valorizzare lo sport in questa piccola regione? Grande manifestazione, però dobbiamo fare un applauso anche all'Unimol, perché l'Unimol è il cuore pulsante di questo territorio, che ha saputo ringiovanire, proiettare ed organizzare e soprattutto sta raccogliendo dei notevoli frutti. E quindi chiaramente lo sport è un veicolo di grande lancio, di avvicinamento ai giovani e alla società. La FIPAV è sempre vicina poi al Molise, sono tanti gli eventi che abbiamo ospitato nella nostra regione? Effettivamente, non solo eventi indoor, perché noi abbiamo ospitato in questa regione anche il beach volley, anche il city volley, il trofeo delle regioni, che è la manifestazione più importante del giovanile che abbiamo appunto in seno alla nostra federazione. e quindi abbiamo completato anche con la Coppa Italia, che è stata una grande soddisfazione per il vostro popolo. Ecco, allora ti aspettiamo di nuovo in Molise, magari anche senza pallavolo, se puoi venirci a trovare. Assolutamente sì. Posso, scherzando, posso dire che ho quasi meritato la cittadinanza onoraria, visto i grandi eventi, grazie a voi, e quindi sono sempre contento e fiero di ritornare in questa terra. Per i ragazzi di Maniscalco, oltre al successo di squadra, sono arrivati anche due premi individuali, quello di miglior libero assegnato al capitano Marco Santucci e quello di miglior giocatore a Gianmarco Rescignano. Nella competizione riservata alla serie B1 femminile, a trionfare è stato il Castelfranco di sotto, che ha superato 3-1 con Corezzo, mentre in B2 femminile l'Alzino ha avuto la meglio 3-0 sul Bisceglie. Basket di serie A1, la Magnolia ha ottenuto il quarto successo consecutivo a spese del Battipaglia, che ha venduto cara la pelle. Blanca Chinonezza, giocatrice della Magnolia, partiamo prima dallo scudetto vinto, ovviamente, gioia immensa per voi. Beh, sicuramente il secondo scudetto, tutti noi, cioè il secondo scudetto nel giro del due anni, è stata l'emozione come vincere il primo e penso che è stata una gioia, un orgoglio per tutti noi e spero di vincerne altri insieme a questa società e a questa squadra. Passiamo alla partita, primi due quarti complicati per voi, tanti tiri puliti, sbagliati, sembrava come se ci fosse un tappo sul canestro, poi il secondo tempo molto meglio. Sì, sicuramente i primi due quarti siamo state molto, molto, diciamo, molle, tra virgolette. Siamo state brave, gli ultimi minuti decisivi a stare con la testa, non molare e siamo riusciti a vincere questa partita. Quarta vittoria consecutiva, rimanete in quarta posizione insieme a San Giovanni, ultime tre partite dovete cercare di fare il massimo calendario non semplicissimo a partire da Brescia. Beh, sicuramente ci vengono delle partite molto complicate, come tutte, ma ci lavoriamo, andiamo con la testa e non tanto ci lavoriamo in settimana, no? e quindi quello che esce è quello che facciamo in settimana. Si sa, la Magnolla non è una squadra che ha tanti punti nelle mani, quindi deve giocare per forza sulla difesa. Sì, sicuramente siamo delle squadre che difende molto, in attacco dobbiamo cercare di fare ancora un qualcosino in più, però si è visto, no? Siamo riusciti a vincere quattro partite consecutive e continueremo a lavorare. Domani sera con palla a due alle 20.30 torna in campo la formazione di Serie B impegnata nei play-off all'Arena, arriva il Potenza per la gara d'andata del primo turno e ritorno in programma alle 18 di domenica in Basilicata. Calcio d'eccellenza la capolista di Sernia a lavoro per preparare al meglio la volata finale e i Bianco Celesti hanno due punti di vantaggio sull'Alto Casertano. Ignacio Flores attaccante del città di Sernia dunque prosegue il vostro lavoro in vista delle ultime partite. È già andata via la prima settimana di sosta dove crediamo non è cambiato nulla a livello di concentrazione e di prestanza. No, no l'atteggiamento nostro deve essere sempre quello di tutto il campionato e lavorare fortissimo perché adesso manca la retta finale che ci deve trovare concentrati bene fisicamente ma soprattutto con la consapevolezza che adesso si risolve tutto questi mesi che mancano si risolve tutto e quindi ci deve trovare fortissimo fisicamente ma anche a livello di testa. Ciò che insomma la testa credo che ci sei sempre stato hai avuto dei momenti particolari nel corso della stagione ma un po' come tutti i tuoi compagni però hai saputo gestire nel momento giusto ti sei fatto trovare pronto a suon di gol e prestazioni. Sì sì ogni giocatore che abbiamo si trova sempre pronto perché comunque è una carriera più che di velocità e una carriera più di resistenza quindi ci deve trovare sempre pronti perché quando ci tocca l'equazione dobbiamo stare bene per dare una mano alla squadra. Sì anche perché ora sono rimaste queste cinque partite dove l'obiettivo sicuramente è conservare questi numeri abbastanza alti sia in percentuale di realizzazione che poi anche per quello che è l'obiettivo finale. Sì sì noi dobbiamo guardare partita ogni partita sono tre punti importantissimi che dobbiamo arrivare lì forti di testa perché comunque adesso è un lavoro che ci deve trovare sempre pronto ti ripeto ogni giocatore qua lo sa che deve essere pronto perché adesso si risolve tutto. Il Termoli 2016 domani torna in campo per giocare i 68 minuti della sfida contro il Guglionesi gara sospesa lo scorso 9 marzo per infortunio all'arbitro si riparte dallo 0 a 0 Giuseppe Giuliani vi state allenando sarete i primi a tornare in campo tra l'altro una partita importante e delicata perché diciamo che l'ultimo treno è l'ultimo aggancio per poter rimettervi in carreggiata sì ormai sono rimasti se cinque partite più il Guglionesi sono sei dobbiamo provare a fare più punti possibili per raggiungere quantomeno i play out per raggiungere l'obiettivo e per non retrocedere senti ho visto che sei tornato anche titolare ti sta utilizzando spesso Mr. Rich sì sono ritornato a giocare titolare dopo un bel po' di partite che ho fatto fuori però ci mettiamo tutti a disposizione ormai ho visto che siete uniti e compatti pronti per questa partita che è fondamentale fondamentale sì perché ormai come ho già detto quelle sono le partite rimaste abbiamo 18 punti che possiamo fare e dobbiamo provare a fare più punti possibili il morale però è alto comunque il morale è alto proviamo a farlo rimanere alto perché se ci abbassiamo anche con il morale siamo siamo spacciati quindi dobbiamo tirarci su e fare più punti possibili tennis lo spinete lo spinete a caccia di punti per evitare i play out Luca Di Bartolomeo capitano dello spinete dunque inizia il rush finale inizia la discesa cinque partite da affrontare al massimo primo scoglio l'altilasam obiettivo fare tre punti sì siamo nella parte finale del campionato diciamo l'ultimo l'ultimo mese e mezzo due considerando queste due settimane di sosta che ci sono state e sì questo è il periodo ovviamente decisivo dove si tirano i verdetti finali ci sono le ultime partite per noi è importantissimo cercare di portare quanti più punti a casa possibili per evitare i play out o quantomeno giocare i play out in casa a partire dall'altilasam che dobbiamo andare ad affrontare in trasferta poi ci saranno altre quattro partite da affrontare una per volta che sono tutte chi per un motivo chi per un altro sfide difficili da affrontare anche perché avete comunque anche qualche sconto diretto come ti spieghi che ci sono state due spinete uno fino al 2023 poi dal 2024 in poi tolto se non sbaglio la prima vittoria col foro l'Umo poi c'è stata tanta difficoltà questa è una bella domanda ce lo stiamo chiedendo nello spogliatore da tempo lo stiamo cercando di analizzare proprio per cercare di essere quelli della prima parte di stagione ovviamente non lo siamo riusciti non siamo riusciti ad esserlo e questa è un mea colpa che dobbiamo fare noi giocatori staff e società però in tutto questo c'è da portare a termine una stagione nel miglior modo possibile centrando quanto meno il minimo obiettivo che è quello della salvezza l'ultima cosa il campo di casa che deve essere il vostro fortino paradossalmente in casa avete tante difficoltà tante sconfitte consecutive è meglio mi esprimete meglio fuori casa sì sì è vero basti andare a vedere le ultime due partite in casa contro il Morcone uno scontro diretto fondamentale abbiamo fatto una brutta figura abbiamo perso 5 a 1 mentre la settimana prima siamo andati a Roccaravindola per 80 minuti abbiamo dominato una squadra che si trova molto meglio piazzata di noi in classifica anche questo è inspiegabile non so forse più di qualcuno quest'anno soffre come non mai il campo che comunque come sappiamo presenta delle difficoltà a livello di terreno non doveva essere così però purtroppo è stato così e quindi niente dobbiamo comunque sia far tesoro di quelle che sono state le nostre difficoltà in casa cercare di abbiamo se non sbaglio tre partite dell'ultimo rush in casa dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili campionato di prima categoria il guardialfiera capolista nel girone B deve difendere il primato dagli assalti della Maronea i rosso-blu sono chiamati ad un grande finale di stagione per centrare la promozione Nicola la penna a pomeriggio giornata giornata speciale giornata particolare nel recupero con il Biccari non solo calcio ma anche soprattutto il ricordo di un amico Gabriele Di Vito sì sì ci tenevamo a fare bene soprattutto per Gabriele che ci ha lasciato purtroppo la partita è andata male un episodio diciamo ha portato in vantaggio agli ospiti e non siamo riusciti a riprenderla ecco cosa è mancato secondo te per portare a casa un risultato diverso? ci è mancato un po' di cattiveria sotto porta siamo stati poco lucidi negli ultimi metri dietro un piccolo errore che abbiamo concesso ci è costato caro poi l'espulsione diciamo ha complicato un po' i piani adesso da cosa riparti? ma sì siamo sempre primi siamo a un punto rimangono sette finali e giocheremo appunto sette finali per portare a casa questo campionato sarà d'ora però ce la metteremo tutto soprattutto per Gabriele ecco avete trovato la forza le motivazioni dopo una simile tragedia vi siete combattati dimostrando di essere soprattutto un grande gruppo sì sì siamo ancora più nei giri prima siamo sempre insieme ogni allenamento il gruppo c'è è compatto e ti ripeto fino alla fine saremo sempre più uniti per portare a casa questo campionato Francesco Gaspari per il guardia al fiera battuta d'arresto interna nel giorno del ricordo di Gabriele di Vito un amico e un compagno di squadra sì parlare di calcio è difficile quando poi si ricorda un amico un fratello per me abbiamo passato tutta la vita insieme abbiamo giocato insieme dieci anni praticamente poi sì c'è stata la partita però era più importante ricordare lui non riesco neanche a trovare le parole perché è difficile è impossibile non avete potuto dedicargli una vittoria però siete rimasti primi in classifica vantaggio esiguo ma da provare a conservare il più a lungo possibile sì purtroppo siamo partiti male abbiamo preso gol subito e non per cercare scuse però comunque in questo momento che emotivamente siamo un po' più fragili poi è difficile recuperare le partite più di qualche ragazzo comunque non è ancora al 100% al livello mentale quindi speriamo di recuperare e riuscire a dedicare la vittoria finale la promozione è l'obiettivo stagionale ci sono ancora tante partite saranno tutte finali per voi sì l'obiettivo promozione è importante ci hanno creduto all'inizio la società e anche noi i giocatori tutti insieme come ho detto prima speriamo di riuscirsi soprattutto per Gabriele non sarà facile bene è tutto buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.